Benvenuti a BG4SDGs, la nostra serie di appuntamenti dedicati all'agenda dell'ONU. Oggi per parlare di uno degli obiettivi forse più importanti, il numero 15, la vita sulla terra, abbiamo la Presidente del CNR, Maria Chiava Carrozza, che saluto e che ringrazio. Buongiorno. Allora, Maria Chiava Carrozza, la biodiversità, che può essere una delle tematiche più importanti legate alla terra, è diventata anche un ramo di ricerca del CNR. E ricordiamo che la biodiversità ha acquisito, in particolare in Italia, anche valore costituzionale perché è entrata proprio nell'articolo 9, nell'articolo 9 della Costituzione, che ricordiamolo, è quello che parla della cultura umanistica e della ricerca scientifica. Allora partirei da questo, l'importanza della biodiversità collegata anche al tema della ricerca scientifica. Sicuramente la biodiversità è un argomento molto importante per tutti, quindi in generale per tutta la popolazione del nostro pianeta, in particolare per l'Italia, che è un hotspot della biodiversità. Da nord a sud abbiamo mare, foreste, laghi e città, che sono i luoghi dove occorre monitorare l'evoluzione della biodiversità, quindi della ricchezza di organismi a tutti i livelli, di organismi viventi, monitorarne l'evoluzione, identificarne le specie, e quindi valutare anche a che punto siamo sulla perdita di biodiversità. E recentemente sappiamo che è stato ormai acclarato da un punto di vista scientifico che l'indicatore biodiversità è connesso anche alla salute del nostro pianeta e quindi all'impatto del cambiamento climatico sulle creature viventi e sugli esseri biologici. Quindi ovviamente monitorare la biodiversità è un po' come misurare il termometro della salute del nostro pianeta. Quindi è particolarmente rilevante, peraltro ti chiederei anche, diciamo, sulla base delle tue tante esperienze, tu sei stata ministra dell'Università della Ricerca, sei professoressa a Università e sei stata anche elettrice, quindi sulla base di tutte le tue esperienze ti chiederei anche una valutazione sull'agenda dell'ONU, sapendo che questi 30 obiettivi da qui al 2030 sono chiaramente molto ampi, molto generalisti per necessità di cose e quindi anche difficili da quantificare. Ma sicuramente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sono, come dire, anche un'agenda per la ricerca, sono un modo per ricollegare all'impatto sociale, al beneficio per la popolazione, la ricerca e sviluppo che viene svolta e sono sempre tenuti in considerazione dalle agende delle principali agenzie di finanziamento della ricerca. Quindi noi ovviamente abbiamo come agenzia di finanziamento preponderante Horizon Europe, che è quello della Commissione Europea, ma anche fondazioni non profit, charities, hanno e sono solite identificare gli obiettivi di sviluppo sostenibile come una grande mappa laica che ci dà a tutti la possibilità, come dire, anche eticamente di vedere dov'è che noi dovremmo traguardare alcune attività di ricerca e anche la trasformazione della scienza fondamentale in tecnologia, in servizi. Quindi a me piacciono moltissimo perché tutti si riconoscono in questi. Sono gli obiettivi per salvare il pianeta e anche declinarli è un modo per far convergere come istituzioni sopranazionali, come è l'ONU, far convergere le policies dei vari paesi verso degli obiettivi comuni. Quindi ovvio che poi, come sappiamo, in realtà ci sono paesi che soffrono anche dell'impatto delle normative, per esempio sulla sostenibilità e c'è un grande contrasto politico per esempio su chi deve pagare il prezzo per esempio delle politiche che devono andare verso la transizione ecologica e come si deve pagare questo prezzo di queste scelte che poi hanno un impatto magari maggiore proprio sui paesi poveri che sono stati quelli che sono stati più inquinati e devastati dal cambiamento climatico e quindi ha a che fare poi anche con la solidarietà complessiva e con una specie di meccanismo di stabilità e di compensazione che va a identificare le politiche di ricerca e innovazione e anche le politiche sociali, coniugando insieme ricerca e innovazione e politiche sociali. Quindi se diciamo il mare come obiettivo sostenibile, quindi mantenere la biodiversità, la ricchezza, tutelare rispetto alla pesca, avere una regolazione, la qualità, la presenza delle microplastiche, tutti questi sono problemi di sviluppo sostenibile nell'obiettivo che riguarda il mare oppure nel caso della salute o del cibo per tutti. Il cibo per tutti significa che nelle scienze agrarie che tra l'altro al CNR sono molto forti, hanno un migliaio di persone che lavorano nei vari istituti che si occupano di scienze bio-agroalimentari. Ovviamente per loro c'è un tema di ricerca fortissimo che è quello di sviluppare le biotecnologie e le tecnologie che devono essere utilizzate poi per produrre cibo per tutti, perché il cibo non c'è e siamo troppi nel pianeta rispetto alle risorse che abbiamo. Insomma, quindi secondo me sono una chiave di lettura dei megatrends e delle complessità odierne. In effetti il tema della distribuzione dei costi della transizione ecologica ed energetica è evidentemente uno dei punti da affrontare in maniera più chiara perché come giustamente ci hai raccontato in questa transizione c'è un bilancio da fare un bilancio con dei ricavi futuri ma dei costi che devono essere pagati immediatamente. Peraltro gli obiettivi dell'ONU possono essere anche lo spunto per parlare della bellezza della scienza. Proprio il CNR e il Consiglio Nazionale delle Ricerche sta compiendo 100 anni. Sono già iniziati i festeggiamenti per questo anniversario molto importante che può permettere di raccontare cosa è avvenuto negli ultimi 100 anni ma anche di raccontare cosa dovrebbe essere il CNR nei prossimi anni. Sicuramente quando si arriva a questi traguardi, quindi 100 anni di vita e di esistenza di un ente è importante guardare il passato, la storia e tutto quello che ha comportato l'evoluzione del CNR dalle sue origini il 18 novembre 1923 ad oggi. Però bisogna anche avere una visione sul futuro, sul prossimo futuro e sul futuro a lungo termine e quindi provare a sognare che cosa potrà essere il CNR del futuro. Ora siamo in un momento ovviamente di preparazione del bilancio di previsione per il 2023 e stiamo proprio vedendo che il CNR è molto cambiato perché è cambiato in senso programmatico. Il PNRR ha dato sicuramente un'iniezione di finanziamenti e anche articolazione scientifica nuova. Avremo l'intelligenza artificiale, il quantum tech, le telecomunicazioni, il cyber security. Nel campo delle scienze della vita avremo la responsabilità di nuove terapie geniche insieme a colleghi di università e altri enti di ricerca oppure avremo la scienza dei materiali, la performance computing. Quindi c'è un po' la traccia di quello che sarà il CNR del futuro. Da una parte sicuramente ricerca fondamentale, dall'altra però ricerca nei campi strategici che sono un po' come gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui abbiamo parlato. Sono obiettivi strategici, cioè sono quelle tecnologie che si chiamano abilitanti. Il quantum tech sarà probabilmente la tecnologia computazionale del futuro così come la cyber security e noi dobbiamo lavorare per preparare la cyber security del futuro non tanto a quella che è disponibile oggi. Quindi noi ci apprestiamo a diventare il pilastro su cui poi si sviluppa la conoscenza e la competenza del futuro. Quindi la scienza e la tecnologia come cibo del progresso. Noi ringraziamo Maria Chiava Carrossa, presidente del CNR. Grazie Maria Chiava. Grazie, arrivederci. E continuate a seguire questi appuntamenti dedicati agli obiettivi dell'ONU. Grazie a tutti.